buonasera gioia buonasera sono tornata avveria c'ho un sacco di video da caricare scusatemi stasera c'ho anche due linette di febbre mi sono presa la tachiprina però volevo fare il video volevo sistemarlo un pochino e mandarlo online perché è un pezzettino e non ci sentiamo mi pizzica anche un orecchio ora scusate sono un po un po abbattuta però non importa dai nulla sono sono tornata stasera ci avevo un video da caricare sui avevo fatto tipo un video blog con una cosina così bellina sull'accessorio e uso in questo momento poi sono andata a castellazzara e non ho fatto in tempo a caricarlo e quando era a castellazzara siamo andate a trovare degli amici nostri con la mia mamma e la mia sorella e nulla è venuto bellino fuori il video perché ho fatto qualche ripresa c'era leo c'erano i gattini di questa amica mia c'era il cagnolone e quindi siamo stati un pochino insieme così ora mi è venuta anche sta cavolo di febbre stasera raffreddore mal di gola mi fa male questo orecchio nulla vi volevo far vedere la mia figlia è tornata dal rimini e mi ha portato gli smaltini quelli li fatti con lo zucchero sopra ve li volevo far vedere allora ha preso questo colorino qua guardate quanto è bellino il numero 633 allora io pensavo fossero lucidi questi smaltini invece li metti sopra fanno tipo i chili di di zucchero o che c'ho anche sto occhio stasera ma mentre a un pelo mi raschia il che c'ho ma che lo so io il mentale eh ci avrò un peletto via mi porta su tanto c'ho il trucco mi sono fatta che sto anche un po' un po' pesantucci però almeno non mi si vedono cielo rossi perché ho certi occhi rossi sono un po' cotta mi sono presa una tachipirina un po' a sticcone tachipirina a mille insomma vi dicevo ma mi ha trovato gli smalti sugarmate allora c'è no uno rosa qua giù mi sono scordata poi mi avete chiesto anche il numero perché ho messo la fotina su instagram no e mi avete chiesto il numero poi magari lo metto nell'info box il numero di quello rosa comunque questo è il numero 633 è un è sfalzato dai colori della della videocamera perché sono con le luci artificiali c'è questa luce le gialle quindi sembra un rosso però è un rosa corallo un rosso corallo insomma poi c'è quest'altro anche questo è bellissimo un bel verde smeraldo sembra blu però è un verde smeraldo me lo volevo mettere domani sull'anulare e quest'altro verde chiaro e questo qui è il numero 637 637 scusatemi ecco poi ha preso questo verdolino bellino menta latte e menta sembra io lo chiamo latte e menta questo però non è sugar matt questo è il numero 389 e poi queste due tonalità di blu che sono molto belle che è questo è il 385 385 è bellissimo proprio un bel blu marmita mi piacciono a me e quest'altro che è il 294 sembrano uguali ma non sono uguali sono sfalzati dalla dalla luce artificiale delle luci dei bagni insomma ecco sono un po' giallognole e poi ha preso questi qua che sono effetto mirror si chiamano così questo argento che è molto bello che è il numero 616 e questo metallizzato sempre mirror che è il numero 622 molto bello anche questo guardate che belle che bel che bel colore ok ragazzi allora io ora vi saluto vi lascio ai video un po' sparsi spero ecco che non faccia tanta confusione ecco l'effetto dei video che ci sarà vi abbraccio vi mando un bacione ci sentiamo alla prossima ciao topoline ora questo quadro della vendemmia la veste della provenza sono venuta a casa di un'amica e faccio il filmino c'è a tutti questi animalini guardate quanto è bellina questa cagnolina si chiama brisida ciao brisida ciao amore e poi c'è tutti i gattini ora ve li faccio vedere madonna quanto sono bellini brisida c'è la mia nonna la mia mamma rosso red passion e c'è un gattino guardate quanto bellino eh eccolo lo vedete quanto bellino eh e c'è Leo oh è entrato in aperitivo dappertutto trovo da bere e qua guardate che ben micino che c'ha non è Leo è in macchina perché l'ho portato giù c'è la brigida che gli soffia e cioè gli soffia che abbaia le lui ha paura e questi gattini, questi micini gli soffiano anche loro a Leo e Leo soffia loro giustamente. Ma guardate quanto è bellino anche questo, sembra Leo, una femminetta però, guardate quanto è bellina, è simile a Leo, ha gli stessi colori di Leo, tageti, tageti, come si chiama? Amore, è come Leo, ha gli occhini più diversi, ha gli occhini un pochino differenti, mi rosica tutto, amori, santi, madonna quanto siete bellini, oddio no, la caramella della nonna, Brigida, con tutti questi gatti diventi scemo, che bellina, la passerottina ha lei, c'ha la passerottina, qua in collo, vieni amore, vieni, mi rosica amore, madonna quanto siete bellini, oggi sono nel mio mondo con tutti questi mici, eh, con tutti questi mici, guardate, Brigida, c'è i gattini, madonna quanto siete bellini, chissà perché Leo non ci vuole venire con me, qua giù, ha paura questo tonto, eh, amore, brino, Brigida, madonna, non ci vuole venire Leo, perché li abbai te, biccherona, non li devi abbai a Leo, piccinino, ehi, ciao, ciao, amore, ciao, belline siete, oh, salute, saluti, madonna, Brigida, piano, Brigida, piano, che sono piccine, eh, piccine sono, pianino, amore, piano, eh, te sei un leone, amore, eccomi qua, io sono venuta dal mio Leo, in macchina, vedete Leo, amore, eccoci in macchina siamo noi, vero, perché c'era quel canone che baiava, tu non lo volevi vedere, amore, eh, vieni, amore mio, piccino, lui non voleva vedere il canone, aveva tanto paura, siamo qui noi insieme, vero, amore, noi, ecco, gattino, guarda, guarda, Leo, guarda, c'è un gattino, guardate che bellini, l'ho tirato un attimo fuori, guarda, Mimì, guardate, bellino, Leo, me la guarda, eh, è un'amicina, Leo, eh, è un'amicina, vicina, vicina come te, eh, vedi Leo, guarda, eccolo, guarda, guarda, vedi, eh, madonna quanto è bellina, no, non glielo fa così, Leo, no, in testa no, eh, vieni, ecco qui, bellina, Leo, non avevi paura, vedi come gioca, eh, guarda, vedi, vuole giocare, Leo, che buffo che sei, Leo, oh, è andata giù la gattina, vieni, Mimì, vieni, oh, mamma, Leo, vieni qua, eh, non mi fuggi, guarda, Leo, guarda, Leo, vedi come gioca questa gattina, eh, giocaci anche te insieme, no, guarda, bellini come giocano, madonna quanto è bellina, gioco, eh, 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 sembra abbia smesso, c'è tutto l'arcobaleno, guardate che bello, ecco qua, grazie,